questa è la stazione di porta nuova alla destra il secondo fascio composizione scomposizione treni viaggiatori i fasci centrali per le varie diramazioni i treni per milano ea che provengono da milano e i treni per genova le manovre sono tutte impegnate dalle 2 45 palazzo specchi e l'impianto a cei la gestione di controllo di tutta la stazione e gran parte delle linee e la vecchia centrale del riscaldamento della stazione che questo edificio di mattoni stazione porta nuova si compone di 20 binari tutti di testa intestate equivalenti cioè non ci sono binari tronchi a metà ma tutti i binari hanno la stessa distanza quindi alla destra fascio di destra i treni per genova fascio di sinistra i treni per milano maosta e la val di susa